Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo in Indonesia, quello che vedete è il bellissimo tempio di Prambanan, un tempio hinduista dalle fattezze spettacolari. Sono giunto qui in un giorno allegorico di festa, come ben sentite c'è la musica, accanto a me c'è uno spettacolo musicale, la gente che guarda, un raduno, gente venuta col fuoristrada, vi mostro un po' le immagini e con queste bellissime note musicali, immagini, io mi sono immedesimato nel posto, vi saluto e ve la do io l'Indonesia, ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti